La direzione provinciale del PD di Cosenza, convocata per discutere delle scelte preparatorie e delle prossime elezioni regionali, ha formalizzato la proposta di candidare Mario Oliverio, il presidente uscente della regione. È stato approvato un documento di forte critica alla gestione commisteriale del PD calabrese che di fatto ha espresso un veto verso un secondo mandato di governo per il presidente uscente. Nel dibattito ha preso la parola Enza Bruno Bossio che nel suo intervento ha affermato e Gratteri che ha ordinato a Zingaretti di non ricandidare il presidente uscente Mario Oliverio. L'affermazione della deputata democrat è espressione delle tensioni che attraversano il dibattito interno al PD alla luce delle recenti inchieste condotte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro che hanno coinvolto i vertici dell'amministrazione regionale. La riunione ha approvato un documento critico sull'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD e le elezioni regionali e ha reiterato la richiesta di elezioni primarie nell'eventualità di candidature. Nella confusione che ancora caratterizza il quadro politico locale in vista delle prossime elezioni regionali c'è un primo elemento di chiarezza. La Calabria tornerà al voto nel gennaio 2020. A farlo intendere è stato il presidente della regione Mario Oliverio. Esclusa definitivamente la finestra del 15 dicembre, cheppure secondo molti analisti politici era una data credibile, le elezioni in Calabria si terranno verosimilmente il prossimo 26 gennaio abbinate a quelle dell'Emilia Romagna. La scherita sulla data del voto metterà adesso i partiti e le coalizioni nelle condizioni di accelerare le trattative per redefinire candidature d'alleanze, finora caratterizzate da molta incertezza, acuita poi ai riflessi del voto in Umbria, che hanno rimesso in discussione alcuni equilibri che si stavano delineando in Calabria. Al momento le forze politiche e gli schieramenti vivono tensioni e anche divisioni interne. Nel campo delle centrodestra persiste la contrapposizione tra Forza Italia e Lega, dopo che i salviniani, dati in fortissima crescita di consenze anche in Calabria, hanno posto il veto alla candidatura alla presidenza della regione del sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, indicato da Forza Italia. I forzisti stanno tenendo il punto, rivendicando in ogni caso la titolarità della scelta del candidato governatore e valutando altri nomi di papabili. Occhiuto in ogni caso ha già ribadito di essere sempre in campo. Nel centrodestra comunque si attende la conclusione del lavoro di mediazione che Silvio Berlusconi ha avviato sia con Lega che con Fratelli d'Italia, altro partito in ascesa a livello regionale. CGL, Cisle e Will ripadiscono la validità del protocollo d'intesa sottoscritto con il commissario al piano di rientro, Saverio Cotticelli e il direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute, Antonio Belcastro, per fronteggiare la crisi delle assunzioni in sanità. Nel contempo però rimarcano che non sono stati mantenuti gli impegni assunti attraverso alternate posizioni che hanno generato confusione e aperto contraddizioni inesistenti. Bisognava, aggiungono i sindacati, proseguire fino al 31 dicembre i rapporti a tempo determinato dando indicazioni certe e supportate da assunzioni di responsabilità delle aziende, impegnare i ministeri ad autorizzare l'assunzione del personale che aveva già espletato i concorsi, avviare la discussione per modificare i termini di conseguimento dei requisiti per la stabilizzazione previsti dalla legge Madia, calcolare l'ulteriore fabbisogno di personale e concordare le ulteriori autorizzazioni alle assunzioni per abbandire i nuovi concorsi. Per fare tutto ciò che sappiamo non essere semplice ma obbligatorio per garantire ILEA, era necessario attivare tempestivamente l'interlocuzione ministeriale, invece si è creata una contrapposizione ed una competizione tra aspettative diverse che nulla hanno in comune. Quanto accaduta all'azienda Pugliese Ciaccio di Catanzaro, è l'esito nefasto di un percorso fatto di promesse mancate e di disperazione in una regione come la nostra in cui perdere il lavoro, seppur precario, è un lusso che nessuno può permettersi. Un piano d'azione per una vera sostenibilità che possa rappresentare un'effettiva svolta verso il futuro. Questo è il punto sostenuto con maggiore forza dalla Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Gabriele Buia, nel corso della relazione svolta all'Assemblea annuale dei Soci a Roma. La folta delegazione di imprenditori edili calabresi guidati dalla Presidente facente funzioni Ance, Calabria, Giovanni Battista Perciaccante, ha particolarmente apprezzato il discorso ottenuto dal leader dei costruttori italiani, sia per l'analisi nuda e cruda dell'andamento del settore in quest'ultimo anno, sia per le richieste dirette rivolte al Governo. Tra quest'ultime spicca l'urgenza di istituire una task force interministeriale per affrontare in modo organico tutte le emergenze dell'edilizia, un'esigenza subito accolta dall'amministro Stefano Patuanelli e dalla Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha così rassicurato la platea. Apriamo un tavolo straordinario per la crisi del settore edile. Dobbiamo lavorare per capire come risolvere i problemi. Per il Sud ha sottolineato Perciaccante, commentando la relazione del leader dei costruttori italiani Buia. Le conseguenze sono state ancora più nefaste. Il gap con il Nord è aumentato in maniera decisa se si pensa che alle nostre latitudini il PIL deve ancora recuperare 10 punti rispetto ai valori di inizio crisi e che la ripresa degli investimenti è tre volte inferiore rispetto al Nord. Serve una politica di vero rilancio dell'economia del mezzogiorno che punti prioritariamente a potenziare le infrastrutture che, soprattutto al Sud, sono un investimento sociale oltre che un'esigenza economica. A partire dall'alta velocità che deve arrivare fino a Reggio Calabria per unire realmente il Paese. È un bene tenerne conto, invece di procedere a valutazioni costi-benefici totalmente fuori contesto e fuori qualsivoglia indice di ragionevolezza ed opportunità. Armi, proiettili e droga è quanto rinvenuto dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagna di Tropea insieme con la stazione di Limbadi, nel corso di un servizio di controllo effettuato su tutto il territorio comunale con l'ausilio dello squadrone riportato Cacciatori Calabria e del nucleo Cinofili. In particolare nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata a Limbadi, i militari dell'arma hanno scoperto e sequestrato un mini-arsenale composto da una pistola Beretta calibro 9, due paia di manette con quattro chiavi, un serbatoio di una fondina e 607 proiettili di vario calibro, alcuni dei quali contenuti in cinque aste per ricarica compatibili con i fucili d'assalto AK-47, ovvero i Kalashnikov. Al termine dell'attività è stato arrestato un 19enne di Limbadi che si è assunto la responsabilità della detenzione delle armi e delle munizioni clandestine. Nel corso dello stesso servizio i carabinieri hanno scoperto nelle vicinanze dell'abitazione di un pensionato residente nella frazione Caroni di Limbadi, armi, cartucce e droga. Il materiale è stato sequestrato dai militari dell'arma, si tratta di quasi 100 grammi di marijuana, una pistola semi-automatica calibro 7,65 con matricola brasa ed un caricatore per pistola contenente 6 cartucce calibro 3,80 mm. Domenica 10 novembre si svolgeranno le elezioni comunali alla Mezzia Terme. In merito abbiamo voluto ascoltare le dichiarazioni del Vescovo Emerito di la Mezzia Terme, Monsignor Luigi Cantafora e del Vice Direttore della Caritas Lamettina, Don Giacomo Panizza. Entrambi auspicano ovviamente che dopo le consultazioni elettorali la città della Piana possa finalmente ritrovare la serenità perduta ormai da troppo tempo. Io spero che i Lamettini possano, ecco adesso io ho finito il mio mandato, ma spero con tutto il cuore che i fratelli di la Mezzia possano prendere molto sul serio appunto questa tornata elettorale. C'è bisogno di serenità in questa città? Di serenità, c'è bisogno soprattutto di una consapevolezza del bene comune, bene comune che rende felice tutti, per cui quella forvice che tanto parla di che povero, poverissimo e quello che è ricco, ricchissimo, non ci sarà più perché il bene comune ha comune realmente tutti. Don Giacomo, per quanto riguarda le elezioni comunali alla Mezzia Terme c'è da augurarsi che finalmente la città della Piana possa recuperare serenità? Per le elezioni c'è da ammettercela tutta, c'è da augurarsi, non soltanto da augurarsi, ma di compartecipare, bisogna essere presenti, sia a votare che subito dopo, anche perché la Mezzia Terme ha bisogno che cambiamo un po' tutti, ma che cambiamo sulla strada giusta, che cambiamo sulla strada del lavoro libero, del lavoro dignotioso, delle competenze, specialmente negli uffici comunali, tutte queste cose qui, cioè fare in modo che votiamo non soltanto una persona, un personaggio, ma votiamo non soltanto una squadra, ma votiamo noi stessi, cioè votiamo noi a dire vogliamo cambiare la nostra città. La città illustrata, questo è il titolo del progetto sostenuto dalla Fondazione Caricale, rivolto alle scuole elementari e medie di Cosenza. Questo progetto include due prodotti, un prodotto tascabile di una mappa e un libro per bambini. Questi due prodotti insieme vanno a supportare il bambino in una passeggiata creativa lungo il Mab, quindi ti aiuta a conoscere le opere della nostra città in maniera buffa, divertente, con linee colorate e scherzose. La Fondazione Caricale è da sempre attenta a promuovere la cultura nei territori di sua competenza, anche attraverso le scuole, ha accolto con entusiasmo l'idea, con la consapevolezza che lo sviluppo di un territorio passa soprattutto attraverso la cultura, che significa anche conoscenza fin dalla più tenera età, della propria storia e della propria città. La Fondazione Caricale ha sostenuto con entusiasmo e convenzione il progetto La città illustrata, ideato da Patrizia Picchieri e Armando Acri, per le sue alte potenzialità formative ed educative. Avvicinare le generazioni più giovani al tessuto urbano della città e al mondo dell'arte, siamo certi, permetterà loro di sviluppare un sano senso di appartenenza alla comunità e responsabilità verso il bene comune. L'Associazione Xenia, in collaborazione con la Fondazione Attilio ed Elena Giuliani Ollus, ha organizzato nelle sale di Villarendano, nel cuore del Centro Storico di Cosenza, un convegno dal titolo Chapeau, storia e arte del cappello. L'affascinante accessorio, che per tanto tempo è stato compagno indispensabile dell'abbigliamento, ha avuto e ha tuttora tante implicazioni, non solo nella moda, ma anche nel cinema, nella musica e nella cucina. Abbiamo allestito anche una mostra, una mostra creata da collezioni di privati, che ci hanno dato questi cappelli particolari, quindi collezioni private di privati e anche della compagnia teatrale, Officina delle Arti, che ci ha omaggiato di questa possibilità di presentare questi cilindri, bombette, cappelli di scena e quant'altro. Quindi diciamo che c'è questo percorso virtuale verso il mondo del cappello, che non è solo un mero fatto estetico e nemmeno femminile, perché soprattutto anche maschile, nei tempi passati il cappello era anzi una prerogativa maschile, era quasi una carta di identità dell'uomo, sapere a quale ceto apparteneva in base al cappello che postava. Sarà lì le signori Ivano Pezzuto di Lecce, l'arbitro di Crotone Perugia, valevole per l'undicesima giornata della Serie B, in programma sabato pomeriggio alle ore 15 allo stadio Ezio Scida di Crotone. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato da Scarpa e Pagliardini. Il quarto uomo sarà Carrione. Dobbiamo dimenticare Verona ed essere liberi di testa, affermato nella conferenza stampa pre-partita, mister Giovanni Stroppa, che non potrà contare sullo squalificato a Zanellato. Assolutamente sì, deve esserlo, perché comunque quello che è stato ormai è stato. Quindi pensiamo alla partita di domani, liberi di testa a riprendere il nostro percorso. Sì, tutti quelli che stavano fuori, sì, tranne quelli un pochino più da Curado a Lopez, Nalinino, Marrone, Gigliotti sì, squalificato a Zanellato, poi per il resto ci sono tutti. Ma questo non lo so, a me sinceramente venire qui a parlare di queste cose oggi mi rimane un po' difficile. Vorrei pensare alla partita e al campo. Ho già detto nel post-partita quello che pensavo e sinceramente non vorrei tornarci sopra più. Per quanto riguarda il discorso di battere il Crotone e rivalutare un campionato, non credo che sia l'obiettivo delle squadre. Credo al contrario invece che ogni squadra vuole vincere contro qualsiasi altra squadra, che sia di fronte al Crotone o a qualsiasi avversario. Quindi ogni partita fa storia a sé. È una squadra che ha palleggio, è una squadra che ha imprevedibilità, è una squadra che ha idee. È una bellissima squadra da vedere perché comunque giocano un ottimo calcio, hanno dei risultati, hanno ottenuto dei risultati. E quindi è una squadra che come del resto tutte le altre, si finisce sempre di dire le solite cose, ma è la realtà. Adesso affrontiamo una squadra che davanti è fortissima, ha coraggio, ha un'identità ben precisa, non dà riferimenti. E quindi la squadra è da prendere con la giusta attenzione. E questo non lo so. Fino a domani alle due e mezza, alle due, quando vedremo la formazione, sinceramente non lo so. Di quelle che sono state le ultime tre o quattro partite, sinceramente, voi è giusto che lo scrivete, ma io ho il pensiero diverso. È una squadra che comunque crea tantissimo, che gli piace tenere il pallone nei piedi, il palleggio. E quindi diciamo che più o meno si avvicina un po' alla partita del Venezia. Magari con meno riferimenti, però di sicuro le insidie possono essere queste. È normale che più tempo passa e più cercheremo di conoscere la squadra e quelli che sono i pregi e gli eventuali difetti sui quali lavorare. Prosegue la preparazione delle Catanzaro in vista della gara di sabato sera, quando alle ore 20.45 lo stadio Ceravolo arriverà l'avellino di mister Capuano per quella che è una partita molto importante per entrambe le formazioni, in particolare per i giallorossi calabresi, il cui obiettivo è di ritornare a conquistare tre punti che non arrivano dalla vittoria casalinga contro la Virtus Francavilla dello scorso 6 ottobre. Da parte sua, mister Gianluca Grassadoni è soddisfatto per queste settimane di lavoro intenso, nel corso della quale ha provato a incidere sia sull'aspetto tattico, sia su quello mentale della squadra. Dobbiamo mettere alle spalle la partita con il Lerende perché non è stata una gara positiva. Da questo punto di vista credo che i ragazzi siano pronti a voltare pagina. Tra l'altro in questi giorni di allenamento ho potuto conoscerli meglio lavorando duramente sul campo. La disponibilità della squadra è totale, è normale che si paga una serenità che non c'è, ma dobbiamo essere bravi noi a trasferire serenità alla squadra e a lavorare tanto, tanto, e sottolineo tanto, su quelli che sono gli aspetti magari più semplici. Sulle varie defezioni con cui bisogna fare i conti, il mister ha le idee chiare. Inutile ragionare sugli assenti, abbiamo una rosa ampia e farò affidamento su tutti coloro che chiamerò in causa dall'inizio nel corso della partita. Dovremmo tutti dare qualcosa in più. Bisogna recuperare quanto prima i giocatori che in questo momento sono fermi e lavorare su questi che ci sono in questo momento, che sono disponibili. Una gara che mette di fronte una formazione molto ostica come l'Avellino. Sicuramente sono reduci da tre match contro il big di questo torneo, Bari, Ternane e Regina, in cui hanno dimostrato ampiamente il loro valore, ha detto Grassadonia. Quella bianco-verde è una compagine fastidiosa, allenata bene da Capuano, ma in questo momento più che agli avversari dobbiamo pensare a noi stessi. La nostra dovrà essere una gara caratteriale di organizzazione. Queste sono le cose fondamentali che mi aspetto. E di fronte a una prevendita che va molto a rilento e il mister non intende lanciare un messaggio ai tifosi, quanto alla squadra siamo noi che dobbiamo dimostrare sul campo di meritare il loro affetto. Dobbiamo ricreare l'entusiasmo che, come sempre ha concluso Grassadonia, arriva soltanto attraverso i risultati e le buone prestazioni. Mancano ormai pochissime ore al big match della tredicesima giornata in Serie C tra Potenza e Regina. Il Viviani sarà sold out per il confronto diretto tra la prima e la seconda della classe. Entrambe stanno vivendo uno splendido inizio di campionato. La Regina è l'unica squadra imbattuta. Il Potenza ha la grande sorpresa del torneo. La squadra Maranto, allenata da Domenico Toscano, sta ultimando la preparazione in vista della grande sfida in terra lucana, sedute però senza pubblico e a porte chiuse sia venerdì che sabato. C'è ancora qualche dubbio per il mister Maranto. A centrocampo intoccabili De Rosa e Bianchi si giocano la terza ed ambitissima maglia, Bellomo che è favorito, Rivas, Sunas e De Francesco. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella più consolidata e scelta nelle ultime settimane. Sul fronte potentino sta recuperando l'attaccante brasiliano Franza, assente da tempo e comunque difficilmente arruolabile per la sfida contro gli Amaranto, fuori causa Jukic. A centrocampo, mister Raffaele dovrebbe scegliere Viteritti e Panico sugli esterni, Vettori e Ricci al centro, ma il tecnico può contare anche su Coccia, Coppola e Giuliano, tutti e tre centrali e Coccia eventualmente dettabile anche a destra. Come già detto, lo stadio Viviani sarà praticamente sold out. Più di 500 saranno i supporti al Samaranto, che giungeranno a potenza per sostenere la squadra di Domenico Toscano. Calcio d'inizio domenica alle ore 17.30. Calcio d'inizio domenica alle ore 17.30.